ciao a tutti oggi mi trovo in campagna perché voglio farvi vedere un set di attrezzi per giardinaggio che mi ha mandato la ditta aspect tech perfetto per le persone appassionate per il giardinaggio fai da te e che vogliono curare al meglio le loro piante e il loro giardino questa è la scatola arrivata con amazon prime e qui dentro c'è il set di giardinaggio in questa scatola più piccola vediamo cosa c'è dentro qui c'è un rastrello abbastanza grande tutti gli attrezzi hanno il manico di plastica questo per togliere l'arbaccia questo è il filo per legare molto utile in questo periodo dove ci sono venti molto forti che si possono portare via le nostre piantine questa una pala dove c'è il righello pure per sapere fino dove dobbiamo scavare queste sono le forbici per la potatura questi mi sono piaciute tantissimo qui hanno un bottone di sicurezza un altro rastrello più grande la pala o paletta anche più grande dell'altra più capiente e questa è la cosa che di più mi è piaciuto di tutto il set la valigetta fatta in un tessuto che si può lavare la possiamo mettere in lavatrice è abbastanza capiente ha delle tasche fuori con una cordicina così le attrezzi non cadono qui dentro possiamo mettere altre cose per esempio la frutta che raccogliamo o la verdura che prendiamo dall'orto li possiamo mettere anche dentro dentro la scatola troverete anche il foglio con tutte le istruzioni in diverse lingue questo è un altro bel regalo che mi ha mandato la vita aspect tech un regalo che potete fare voi in qualunque occasione anche in questo natale per le persone che sono appassionate di giardinaggio fai da te io vi lascerò il link nella descrizione del video così potete andare a dare un'occhiata guardare la recensione di ordinare questo bel prodotto spero vi sia stata utile questa recensione se è così datemi un bel pollice in su iscrivetevi al canale condividete il video e lasciate la campana delle notifiche che se così ogni volta che carico un video sarà di prima a vederlo ci vediamo la prossima adios amigos